Gorbaciov diventa del tutto credibile agli occhi dell'Occidente soltanto nel momento in cui si sfalda l'Europa centro-orientale e lui non muove un dito per frenare gli eventi. A Roma li definisce irreversibili. La visita doveva essere l'ultima tappa di un giro nelle grandi capitali d'Europa con un accento particolare sull'economia. Affari per 5 miliardi di dollari. Dato il momento storico tuttavia le tre giornate italiane hanno avuto un peso politico molto superiore alle previsioni. È il primo appuntamento a Est-Ovest per ragionare insieme come andare avanti e quando Gorbaciov parla bene di questi giorni non lo fa per cortesia ma perché ha l'impressione che gli italiani abbiano una capacità superiore agli altri a comprendere tutti i lati dell'esistenza dice abbiano una percezione migliore della storia. È inutile fare oggi il conteggio sportivo su chi abbia vinto, chi abbia perso i vari appuntamenti. Non è la fine della storia, è la storia che si sblocca ma non bisogna forzarla. Evitata questa tentazione resta il fatto riconosciuto che chi sta peggio oggi è l'Europa dell'Est e questo dato fa sfumare un altro vecchio sospetto, il sospetto di un piano machiavellico per la conquista russa di un'Europa neutralizzata. Sgomberato così il campo dei sospetti, i documenti politici di Roma rispecchiano la nuova realtà informazione. I testi non sembrano firmati da due paesi appartenenti a blocchi diversi, scrive stamare un quotidiano straniero. Sono probabilmente la traccia di come in futuro verranno reddati i testi simili. Ora che l'URSS rinuncia al monopolio della verità e da quando, dice Gorbaciov, la perestroica significa l'apertura al mondo e la scoperta del mondo esterno dopo 70 anni di chiusure e di false rappresentazioni della realtà esterna. La visita al Papa Giovanni Paolo II rientra nello stesso solco. Senza rinunciare alla sua visione Gorbaciov intravede l'incontro culturale e religioso nella spiritualizzazione della vita sul terreno dell'etica, nel rispetto dei diritti umani e civili e con queste idee può sbloccare una situazione che era rimasta ferma al 1917.